La guardia di finanza arresta Sasà Cintolo, già presidente e delegato provinciale del CONI di Ragusa e accusato di peculato insieme ad un altro a margine delle indagini sui contributi per la scuola regionale dello sport. Sulla vicenda della rete ospedaliera piovono critiche dai parlamentari Nino Minarde e Maria Lucia Lorefice. Per Minarde e Lorefice si vuole smantellare la sanità ragusana danneggiando modiche scicli. Per l'Eccas provincia siciliana si parla di quattro anni di guai e di danni con strade, scuole e infrastrutture nel caos. Intanto per i liberi consorsi si parla di voto al 26 febbraio ma si tende ad un rinvio. Proseguono le indagi sulla vertenza della ragusa latte per il procuratore capo Carmelo Petralia. Si tratta di una truffa. L'attenzione è anche rivolta alla parte legata ai contributi. Il Codacons presenta un'esposta alle procure siciliane per indagare sulle scuole finite al freddo e con i caloriferi inutilizzati. A rischio ci sarebbe, dicono, la salute degli alunni, specie dei più piccoli. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia. Notizia dunque clamorosa, come avete sentito dai titoli, quindi inaspettata. Piombata stamani a Ragusa, scuotendo i palazzi della politica ma soprattutto gli ambienti sportivi. La Guardia di Finanza che ha infatti arrestato stamani Sasa Cinto, l'ex presente del CONI e delegato provinciale. L'accusa è di peculato. Un fulmine a Celsareno scuote in quest'ora Ragusa i palazzi della politica e dello sport. La Guardia di Finanza ha infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nel regime di domiciliari ed è messa dal GIP del Tribunale nei confronti di Rosario Cintolo, per tutti Sasa, già presidente e delegato provinciale del CONI. Il provenimento restrittivo è conseguente alle indagini sulla gestione dei contributi che la regione siciliana nel periodo 2006-2012 ha messo a disposizione della scuola regionale dello sport ubicata in Contrada Selvaggio. Le accuse, a carico di Cintolo ed un altro indagato, già segretario regionale e direttore della stessa scuola, sono di peculato. È inoltre in corso l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di tutti i cespiti monetari nella disponibilità degli indagati per un valore complessivo di circa 600 mila euro. Oggi alle 11 intanto, presso il comando provinciale della Guardia di Finanza, sono stati illustrati i particolari dell'operazione. Preoccupante escalation di episodi criminosi nel quartiere Talafuna-Vittoria, soprattutto di furti ai danni di anziani, interviene il Movimento Sorgivittori che dice che bisogna intervenire per tutelare i cittadini, rappresentanti del movimento che hanno indetto per sabato prossimo, sabato 14 gennaio, un comizio che si darà in via Manzoni con via 25 Aprile per dimostrare, dicono dal movimento, la propria vicinanza a questi cittadini. La vicenda del piano sanitario. Dopo l'incontro con il ministro Lorenzin usciamo rafforzate fiduciosi, così l'onorevole Nino Minardo in merito alla vicenda del piano sanitario siciliano che ha scontentato, come è noto, molti sindaci, tra cui quelli del versante ebleo. Sarà il ministro Lorenzin a difendere i nostri territori dall'atteggiamento ostativo e vessatorio nei confronti dei nosocomi di modiche scicle del comprensor ebleo? E' quanto afferma l'onorevole Nino Minardo all'indomani dell'incontro con il ministro della Salute in merita al discusso piano sanitario regionale. E' palese, dice Minardo, che siamo di fronte ad uno strumento di riordino redatto su spinta politica e non certamente meritocratica. Il maggiore di Modica annumera i dati oggettivi e, una volta che la Regione avrà trasmesso ufficialmente il piano per l'esame finale al Ministero, sarà nel motivo per correggere questo abbrobrio amministrativo. Un pastrocchio che voleva danneggiare solo l'offerta sanitaria di Modica e Scicli, avallato dai colpevoli silenzi dalla dirigente provinciale dell'ESP. E non c'era una sola ragione, prosegue ancora Minardo, per cui il maggiore il Busac dovessero subire il ridimensionamento previsto dal piano, facendolo diventare ospedale di base. Poi l'esponente di Forza Italia sottolinea che non ci sono solo i quattro comuni del comprensor ebleo a sostenere la battaglia, ma una comunità che comprende anche i comuni dell'area sud della provincia di Siracusa. E sulla stessa linea, sulla stessa lunghezza, anche la parlamentare del momento 5 Stelle Maria Lucia Lorefice, che parla che non è previsto nessun hub, ma solo due SPOC per la Lorefice, è evidente che il piano è distruggere la sanità ragusana. La rete ospedaliera ragusana non solo non funziona, ma la stanno ulteriormente smantellando. Duro atto d'accusa dalla parlamentare 5 Stelle Maria Lucia Lorefice, a dire della quale lo sanno bene i cittadini, i pazienti, i medici e tutto il personale sanitario. Non ci sarà un hub in provincia, dice, ma solo due SPOC e dunque ormai le carte sono scoperte ed è chiaro a tutti che a Ragusa la sanità non deve funzionare, ancora di più alla luce del fatto che Modiche Scigli diventerà non solo presidio di base. Adesso non raccontiamo favole come il potenziamento degli ospedali del personale e forse all'ASP, che non ha brillato per interesse verso la provincia, non interessa ad esempio quanti problemi potranno esserci per il trasferimento dei pazienti in ambulanza. Neanche il fatto, prosegue la Lorefice, che la ricorsa al TAR del comune capoluogo sia stato accolto, ha minimamente scosso il governo regionale e l'assessorato di riferimento, tantomeno lo stesso manager dell'ASP. Ma Lorefice ricorda anche che questa nuova rete ospedaliera dovrà passare dalla Commissione Sanità regionale e i nostri parlamentari, rimarca, saranno pronti a portare avanti le stanze del territorio. Torno sotto i riflettori l'ex provincia, oggi liberi i consorsi, dopo quattro anni di caos e praticamente di danni a scuole, strade e infrastrutture, la Giunta regionale ha approvato il decreto per l'elezione del prossimo 26 febbraio. Molti però propendono per un rinvio per tornare quindi alla vecchia provincia con l'elezione diretta. La Giunta regionale ha approvato ieri il decreto per l'indizione del prossimo 26 febbraio di elezione di secondo grado nei liberi consorsi comunali e per le assemblee delle città metropolitane. All'ARS però tutte le forze politiche, tranne il Movimento 5 Stelle, concordano di rinviare le elezioni, ritenendo che dopo la bocciatura della riforma costituzionale bisogna ritornare alle vecchie province con l'elezione diretta. Ma intanto quattro anni di caos, di sedute all'ARS, di commissariamente a Gogo, cosa hanno portato ai territori siciliani? Strade sempre più dissestate e abbandonate a se stesse, scuole sempre più degradate e senza la giusta manutenzione, impianti sportivi fatiscenti, il simbolo in provincia rimane il velodromo di Contata Boscopiano e la lunga telenovela del trasporto degli studenti disabili. La riforma più pasticciata di sempre, quindi quella appunto delle province, rischia di tornare al punto di partenza. Sarebbe allora bastato, quattro anni fa, togliere i gettoni di presenza dei consiglieri provinciali, evitando così di trasformare i nuovi enti in stipendifici che oggi non riescono a garantire i servizi che svolgevano prima, come appunto la manutenzione delle strade lasciate nel più completo abbandono. Vogliono boicottare la riforma che io per primi in Italia ho voluto attonato di recente il governatore Crocetta, fermando il lavoro fatto in questi anni. Un lavoro però che oggi, a ben guardare, si è rivelato un autentico flop. Un appuntamento statuto siciliano e prospettive europee. Infatti il titolo della conferenza che si terrà sabato alle 16.30 a Vittoria presso la Sala Manderà, evento promosso dal Movimento Siciliano e Liberi, che mira a sensibilizzare i cittadini sui temi fondanti dello statuto siciliano nell'ottica di prospettive future. Vanno avanti le indagini sul caso della cooperativa Ragusa Latte, con l'attenzione rivolta in particolare anche alla parte legata ai contributi e un'indagine per truffa, rimarca il procuratore capo Carmelo Petralia. La procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per truffa riguardo alla vicenda della Ragusa Latte. Lo ha ribadito in quest'ora il procuratore capo Carmelo Petralia con un duplice reato ipotizzato. Il fascicolo è infatti aperto per truffa e anche per truffa finalizzata ai contributi pubblici. Le indagini sono state avviate da tempo, come è noto, con varie attività e affidate al luco di polizia tributaria della finanza. Petralia ha confermato che l'indagine riguarda un settore importante dell'economia ragusana e tutti i fari sono puntati in questa direzione. Nelle prossime ore intanto in tribunale si doveva decidere il concordato liquidatorio e saranno i soci che hanno conferito il latte non pagato e altri a dover decidere se accettare o meno l'accordo proposto dall'azienda. Per i soci allevatori la proposta di una transazione al 30% e le loro aspettanze, ma anche questa percentuale, è appesa ad un filo e legata alla reale possibilità per la cooperativa di avere dei proventi e poter pagare almeno in parte i debiti. La vicenda del concordato viaggia parallela a quella giudiziaria, con tempi però e percorsi diversi, con gli allevatori che hanno scritto una lettera aperta chiedendo un'accelerazione delle indagini e anche degli interrogativi, ad esempio perché i soci non erano stati informati della situazione economica della cooperativa e come mai si è scelta la strada della fusione con Progetto Natura. Accanto adesso l'amministrazione comunale informa i cittadini che sono aperte l'iscrizione agli elenchi delle borse lavoro in un periodo di grave crisi economica, si legge in una nota di palazzo di città e di forte disagio sociale, offriamo una piccola opportunità a quante vivono momenti difficili. L'amministrazione quindi, consapevole di questo momento e nonostante le note criticità di bilancio, continua a lavorare per garantire servizio essenziale per venire incontro a coloro che maggiormente sentono i morsi della crisi. Le domande devono essere quindi presentate verso l'ufficio protocollo entro martedì 24 gennaio. Occorre fornire subito sostegno finanziario alle aziende colpite dall'eccezionale ondata di freddo. Lo afferma l'onorevole Giorgio Assenza che si è fatto promotore di un'iniziativa presso il governo della regione. Il governo regionali si attive affinché vengano quantificati i danni alle produzioni agricole per porre in essere tempestive misure straordinarie di interventi finanziari e dare ristoro economico al settore agricolo di un territorio già provato da numerose calamità naturali. E' quanto afferma l'onorevole Giorgio Assenza che ha presentato in aula all'Arso un ordine del giorno specifico. L'ondata di maltempo prosegue Assenza che si è abbattuta in questi giorni sulla Sicilia ha inverto un ulteriore duro colpo ad un comparto agricolo genso afferenza a causa della grave crisi economica. Nel territorio ragusano in particolare le gelate non hanno risparmiato gli insediamenti produttivi e ingenti, sono stati danni alle produzioni sottoserre e alle colture della fascia trasformata. Il governo quindi intervenga con la massima urgenza, sottolinea il parlamentare comisiano, per dare un sostegno concreto alla nostra agricoltura che, specie nel ragusano, continua ad essere nonostante tutto il settore strategico dell'economia. E poi, restando in tema, c'è il Codacons. Il freddo congela le scuole siciliane, non tutto ovviamente, dicono dal Codacons. E allora ha presentato un esposto alle procure dell'isola per interruzione di pubblico servizio. La vicenda delle scuole fredde in Sicilia finisce sui tavoli delle procure. Il Codacons, infatti, a seguito delle tante proteste ricevute dagli studenti, dagli insegnanti e dai genitori, ha annunciato la presentazione di un esposto alla magistratura siciliana chiedendo di indagare per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il Codacons si chiede inoltre che vengano forniti i dati del monitoraggio sullo stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento delle scuole siciliane, ritenendo indispensabile l'intervento delle prefetture per ottenere la mappatura degli edifici scolastici interessati dai disservizi. Inoltre, per richiamare alle loro responsabilità tutti gli enti preposti che hanno il dovere di vigilare per fornire il riscaldamento. Il funzionamento di questi impianti, affermano dal Codacons, deve essere garantito per tutelare la sicurezza di tutti gli operatori del settore scolastico, evitando l'esposizione a rischi per la salute, insieme ad altri disagi che gli utenti sono costretti a subire. Molti, infatti, saranno quei genitori che, per evitare problemi ai figli, li tengono a casa ricorrendo a fare permesse sul lavoro e babysitter che si traducono in costi per le famiglie che i responsabili dovranno risarcire. Domani, venerdì 13 giugno, la sessione classica dell'Iceo Mazzini di Vittoria aderirà alla Notte Nazionale del Liceo Classico. Iniziativa giunta alla terza edizione, pensata a livello nazionale come difesa dal valore formativo e culturale dello stesso liceo, eccellenza italiana che studiosi dall'Università di Oxford hanno recentemente valutato come il più alto modello pedagogico del mondo occidentale. Dalle 18 quindi alle 24 domani il Liceo Mazzini promuoverà una serie di incontri e approfondimenti culturali realizzati da insegnanti e dagli stessi allievi. Il momento culminante dell'evento sarà la presenza di due artisti di eccezione, vale a dire l'attore e regista Gianni Battaglia e il sassofonista vittoriese Francesco Cafisso. A Ragusa si torna a parlare di metropolitana di superficie, notizia che arriva da Palermo, dal governo e adesso per l'onorevole Nello Di Pasquale servirà a far diventare esecutivo il progetto. Tra gli interventi di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie che interessano soprattutto i capolughi di provincia pronte per essere finanziate c'è anche la metropolitana di superficie di Ragusa. A dare notizia l'onorevole Nello Di Pasquale il quale spiega che il comune aveva già presentato un progetto per 18 milioni di euro e in precedenza era stato anche preannunciato che sarebbe stato tra quelli finanziabili. Adesso con la pubblicazione della graduatoria nella gazzetta ufficiale è arrivata la conferma del finanziamento. Ragusa al momento si trova al posto 108 con 35 punti, ora servirà il più presto far diventare il progetto esecutivo. E la nostra attenzione, rimarca lo stesso Di Pasquale sul futuro dell'opera, rimane comunque alta perché si tratta di un'occasione che Ragusa non si può permettere di perdere. Il progetto come è noto dell'opera ha una storia lunga circa 20 anni, l'idea nata da un'intuizione del sindaco Giorgio Chessari ha subito negli anni fasi alterne, passando dall'entusiasmo al più assoluto silenzio, fino a quando si è tornati a credere nel progetto e a lavorare ad una sinergia tra privati. E oggi potrebbe essere il momento decisivo. Allora due appuntamenti, intanto a Comiso e il sindaco Spataro, l'assessore ai lavori pubblici Gaglio, unitamente alla giunta municipale, effettueranno domani venerdì un sopralluogo per l'apertura del cantiere della nuova scuola materna in via Bufalino, un nuovo edificio scolastico, anticipato il sindaco Spataro che ospiterà, dice, 5 sezioni e 150 allievi e sarà caratterizzato dalla massima efficienza energetica, da un design moderno e spazi comuni all'avanguardia. Poi c'è un appuntamento invece musicale, riguarda Aldo Raffaele, domani alle 22 all'Agro Dolce, infatti di Ragusa, l'artista vittorese canta l'Amaromiele di Gesualdo Bufalino, quando la poesia diventa musica, ci sarà anche al Cion e alle percussioni Flavia Laperna. Basket femminile assume, o meglio sta assumendo, i contorni di un giallo in casa Passalacqua la vicenda dell'americana Irlana Larkins, da poco ingaggiata, ma di cui si sono perse le tracce. Nessuna notizia ad oggi della pivò americana Irlana Larkins, da poco tesserata con la Passalacqua, è attesa da Giona Ragusa per aggregarsi con la squadra. Squadra che intanto si allena per preparare la gara di domenica a San Martino di Lupari, mentre la società non sembra mostrare alcun fastidio, sentendosi tranquilla in forza di un regolare contratto che l'atleta statunitense ha regolarmente sottoscritto e firmato. Sullo sfondo si parla però di possibili manovri di disturbo da parte di altre società e in queste ore si è fatto il nome di Schio. La squadra campione d'Italia avrebbe infatti il problema della sostituzione dell'infortunata Yacobu, che dovrà subire un intervento chirurgico al ginocchio per la società cui avrebbe individuato, proprio nella Larkins, l'atleta è in grado di prendere il suo posto. Tra l'altro pare che l'americana stia spingendo proprio per liberarsi dal contratto con la Passalacqua, puntando anche a pagare la penale pur di trasferirsi in Veneto. Non sembra però consensiente il club Ibleo che si aspetta che Larkins si presenti in sede per poter discutere a quattro occhi la delicata situazione. Una vicenda che sta naturalmente creando fastidio anche a Lambruschi, con la squadra ancora incompleta e con il giallo Larkins di cui non se ne sentiva proprio il bisogno. Domenica prossima a Modica, seminario interamente dedicato alla difesa personale femminile, promossa dall'associazione sportiva Eragon e col supporto dell'ECS di Ragusa. Il focus del seminario vertirà soprattutto sulla difesa da minacce e attacchi a breve, media e lunga distanza, quali prese ai polsi, avvolgimenti, minacce da coltello, tentativo di violenze a terra. Inoltre sarà preso anche in considerazione l'aspetto psicologico della difesa personale attraverso esercizi guidati che avranno come scopo quello di migliorare la percezione corporea e l'utilizzo della cosiddetta forza calma. Lino alla regia e breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online Ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Adesso il riepilogo delle fatti in primo piano. La guardia di finanza arresta Sassà Cintolo, già presidente e delegato provinciale del CONI di Ragusa, e accusato di peculato insieme ad un altro, a margine delle indagini sui contributi per la scuola regionale dello sport. Indagini che si riferiscono al periodo del 2006 al 2012, in corsa anche l'esecuzione di un sequestro preventivo dei cespiti monetari nella disponibilità di Cintolo e di un altro indagato per circa 600 mila euro. Sulla vicenda della rete ospedaliera piovono critiche dai parlamentari Lino Minarde e Maria Lucia Lorefice. Per Minarde e Lorefice si vuole smantellare la sanità ragusana danneggiando modiche scicli. Minardo ha incontrato il ministro Lorenzin ricevendo rassicurazione di un pronto intervento sul discorso piano sanitario. Per l'esperimento politico modicano la battaglia è sostenuta anche da comuni del Siracusano. Per le case province siciliane si parla di quattro anni di guai e di danni con strade, scuole e infrastrutture nel caos. Intanto per liberi i consorsi si parla di voto al 26 febbraio ma si tende ad un rinvio. All'Arsi ritengono infatti che dopo la bucciatura della riforma costituzionale bisogna ritornare alle vecchie province con l'elezione diretta. Infuriato il governatore Crocetta vogliono, dice, boicottare la riforma che è per primo voluta in Italia. Proseguono le indagini sulla vertenza della ragusa latte per il procuratore capo Carmelo Petralia. Si tratta di una truffa. L'attenzione è anche rivolta alla parte legata ai contributi. Entro oggi si decide intanto sul concordato liquidatorio e strani soci che hanno conferito il latte non pagato e anche altri a dover decidere se accettare o meno l'accordo proposto dall'azienda. E si parla anche di una transizione al 30%. Il Codacons presenta un'esposta alle procure siciliane per indagare sulle scuole finite al freddo e con i caloriferi inutilizzati. A rischio ci sarebbe, dicono, la salute degli alunni, specie dei più piccoli. Codacons che chiede inoltre che vengono forniti i dati del monitoraggio sullo stato di funzionamento dei caloriferi nelle scuole, ritenendo in questo caso indispensabile l'intervento delle prefetture per ottenere la mappatura degli istituti scolari. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. Grazie.